ciao ariete benvenuto andiamo a vedere cosa hanno da raccontarti le mie carte questo video avrà validità dal momento in cui tu lo vedrai non darò tempi per quello ci sono gli oroscopi l'oroscopo del mese ho pubblicato quello di luglio pubblicato l'oroscopo per l'estate con dei tempi ben specifici qui le lasciamo libere proprio di raccontare di narrare avrà validità dal momento in cui tu lo vedrai anche fossero passati dieci anni dalla pubblicazione di questo di questo video partiamo subito e chiediamo per il segno zodiacale dell'ariete ok allora andiamo a vedere cosa c'è ok il serpente o la serpe che dir si voglia e il sentiero ma guarda e il cuore ma guarda allora qui sicuramente c'è siamo davanti a un bivio siamo davanti a un bivio siamo davanti a una scelta da fare a una decisione da a una decisione da prendere che potrebbe riguardare proprio il cuore potrebbe riguardare proprio un un sentimento un'emozione ma ancora visto appunto che c'è il cuore di mezzo mi potrebbero anche parlare di sentimenti emozioni un po contorte visto che c'è questo serpente quindi delle emozioni dei sentimenti un po passami termine doppi quindi un so o d'amore di odio o di desiderio di buttarsi in un qualcosa ma allo stesso tempo di paura insomma c'è un qualche come ti posso dire contorcimento mentale in questa situazione ma ancora se non si parla di sentimenti di una questione emotiva semplicemente una questione che molto ti sta a cuore che ti scatena delle emozioni un po contrastanti comunque sia qui c'è una decisione da prendere andiamo a vedere vediamo un po l'ariete per il segno zodiacale dell'ariete cosa hanno da dire per l'ariete vediamo guardati poi come ho detto anche l'oroscopo per il tuo segno zodiacale li pubblico ogni mese ogni settimana insomma ti possono aiutare no a seconda di quando guarderai questo video guardi quello del periodo in cui vedi questo video qua e poi metti insieme ovviamente segno zodiacale dell'ariete ok l'asso di bastoni come prima carta e ti garantisco una carta parecchio parecchio bella molto fuorosa molto passionale e l'appeso eccola la asso di bastoni appeso cos'altro vedi la regina di coppe sono cascare troppe per i gusti il sette di spade il quattro di coppe e il fante di denari cosa c'era nel taglio vedi il 5 di spade e vedi aria e se qui c'è qualcosa a ballo ora non temere perché effettivamente tu c'hai dei transiti almeno se tu vedi il video ora che sto parlando insomma molto positivi comunque detto questo a ma qui vedo semplicemente ci potrebbe essere una situazione molto arietina mi verrebbe da dire nel senso che si parte c'è un inizio molto entusiasmante molto non te ne sto facendo una colpa mi fraintendere molto arietina nel senso la riete è un segno che indica all'inizio di un qualcosa no la passione l'inizio l'entusiasmo boom 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 il voler primeggiare l'essere primo in tutto bam 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 il leader diciamo no oddio il leader no il leader è più il leone il leader nel senso la prefista all'inizio il primo vuole essere il primo ok è un po così la riete stessa situazione vedo qua nel senso che qui ci potrebbe essere qualcosa che tu hai iniziato o che tu inizierai va bene che poi va a fermarsi di nuovo vedi va a fermarsi di nuovo quindi o una falsa partenza di un qualche cosa del lavoro che magari sembrava andasse chissà dove poi invece tende a fermarsi di nuovo ma potrebbe essere anche siccome c'è proprio questa regina accanto potrebbe anche essere il tuo entusiasmo su qualcosa su una situazione in particolare poterlo capire a te visto che le parlano a te le carte ok su una situazione in particolare un po una perdita di entusiasmo capito come se si perdesse sì va bene siamo eccitati bello però come se si perdesse subito dopo l'entusiasmo per un motivo x infatti qui vedo proprio una persona che tende a svicolare che tende a tirarsi indietro da determinati impegni magari anche presi nonostante magari la situazione la ti può portare anche un qualche vantaggio ad un qualche tipo cioè qui vedo un ariete sfavato come si dice un po un po così effettivamente questa set per i fammi vedere cos'è quell'appeso per l'ariete vediamo capito qui potrebbe essere semplicemente una mancanza di entusiasmo di passione quello che tu fai o se anche tu ce l'hai e tu la perdi per un qualche motivo capito fammi un po vedere ariete cos'è quello appeso per il segno dell'ariete ok il fante di coppe mettiamolo qui perché sopra non ci sta il 6 di bastoni e in nove sì qui come ti ho detto le come se tu dovessi perdere proprio quella voglia di fare dell'inizio capito quella quella passione quel desiderio quel fuoco dell'inizio su questa situazione qui c'è un tirarsi indietro ci sono delle opportunità che magari si presenteranno o che si sono presentate che però magari non ti interessano più di tanto sinceramente ora io non so cos'è quel 7 di spade non so di che cosa di che cosa si parlano perché non è che vedo l'amore in particolare o il lavoro in particolare eccetera capito qui c'è molta indecisione c'è questo tirarsi indietro vedi c'è questo tirarsi indietro da qualche cosa un qualcosa che non ci entusiasma più o meno non c'è entusiasma più come dovrebbe entusiasmarci in poi parole ecco quindi una riesce che perdere entusiasmo insomma un po sì ma qui ci potrebbe pure essere qualcosa di nuovo una novità che ti attrarrà di più magari c'è un qualcosa di nuovo e ti preme che ti prende di più che non che ti entusiasma perché qui l'entusiasmo lo vedo non che ti entusiasmi di più però come dire mi rende di più qui c'è una riete molto profe ovvero il 7 di denari un qualcosa che mi rende mi rende di più e tu ti potresti focalizzare su questo qualcosa vedi impegnarti di più in quest'altra cosa che a tuo vedere ti rende di più però non senza non senza un po questo combattimento diciamo così vedi qui il sentiero con la serpe il sentiero con la serpe guarda non escludo che qui tu abbia un rivale e un o una è dipende chi tu sei e di cosa ti stanno parlando a te le carte qui è come se tu dove passami termine non perdere un confronto però almeno se tu la vivi così tu la vivi tu la vivrai così qui c'è una scelta da fare una decisione da prendere capito qui vedo che la strada vecchia la comincia stati stretta la chi comincia un pochino cioè tu hai perso un po tu perdi un po l'entusiasmo diciamo sì ok e tu potresti decidere di dedicarti a qualche altra cosa qualcosa di nuovo che possa portarti se tu vuoi anche a a un qualcosa di più redditizio di più favorevole per te ecco questo volevo 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 dire vedere per il segno zodiacale dell'ariete per l'ariete vedi la torre col dieci di spade qui c'è qualcosa che si è concluso che si è andata a concludere che si conclude capito per buona pace del cielo mi viene da dire quindi qui l'ariete è davanti a dei cambiamenti a dei cambiamenti importanti mi verrebbe da dire vediamo cos'altro ci dicono queste mie carte meravigliose che c'entrano sempre il punto il nocciolo della questione vediamo un po l'ariete se davanti a un bivio anche con tormento se tu vuoi e ci può essere anche un po di tormento però è davanti a una scelta di questo ci stanno parlando praticamente per l'ariete follow your dreams ah ah segui i tuoi sogni segui i tuoi sogni pay attention to your body fai attenzione presta a te no fai attenzione nel senso abbi paura sta attenta fai attenzione presta ecco presta attenzione diverso da fai attenzione presta attenzione al tuo corpo e seguito i sogni quindi che cosa ti dicono queste carte devi seguire i tuoi sogni sicuramente lo sapete no almeno questo è risaposo che quando c'è un qualcosa psicologicamente parlando che ci tormenta e non ci fa stare bene non ci fa stare tranquilli il nostro corpo ci lancia dei segnali sicuramente quindi è possibile è probabile che il tuo corpo ti stia lanciando dei segnali per esempio ne dico una tu sbavigli mentre tu sa fare il tuo lavoro così oppure che ti devo dire non lo so capito quindi come dire la cosa è stata stancata sotto una voglia di fare ecco fai attenzione presta attenzione al tuo corpo e segui i tuoi sogni quindi fai quello fai quello che il tuo cuore ti detta praticamente fai quello che il tuo cuore ti detta e sicuramente non tu sbaglierai vedi qui c'è il sentiero qui c'è una riete veramente davanti a un bivio deve scegliere la strada da percorrere e le carte ti stanno dicendo di seguire quella strada che più si avvicina al tuo cuore a quello che è il tuo sogno il tuo desiderio quindi questo io seguirei va bene ariete fammi sapere nei commenti ok noi ci vediamo qua al prossimo video ciao eccoci qua vi lascio ai miei vi no ciao 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 ciao